Gioia immensa per la showgirl e il compagno che hanno comunicato la nascita della bimba con un tenero annuncio social. Nata Luna Marie, prima figlia di Belen Rodriguez e del compagno Antonino Spinalbese. L'annuncio è arrivato attraverso i profili social, dove la showgirl ha condiviso con i follower questa sua desideratissima gravidanza. C'è qualcuno che è nato adesso, ha scritto nel cuore della notte intorno alle 3, pubblicando tra le storie Instagram un'immagine della bambina e poi un'altra foto insieme al compagno. Per la showgirl, che il prossimo settembre compirà 37 anni, si tratta della seconda maternità, arrivata 8 anni dopo la nascita di Santiago, frutto dell'amore per l'ex marito Stefano De Martino. Prima figlia, invece, per Antonino Spinalbese, che è diventato papà per la prima volta a 26 anni. La showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. Avevo smesso di credere nell'amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino, confidò lei in un'intervista a Verissimo, durante la quale confermò di aspettare una femminuccia. Lui, della modella argentina, si è innamorato subito, come un vero e proprio colpo di fulmine. Il primo segnale l'ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni a Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. E poi, un giorno, pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto, ma di cosa ti sei fatto, e mi ha buttato giù il telefono. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.